un mica basta uno per dire ce l'abbiamo se esce subito meglio mica non aiaca mica 4 stelle vediamo allora se ha pt 5 6 7 8 9 10 di una 11 12 13 14 e 15 ok e ragazzi qua tanto finché non me ne esce uno tiriamo tutto qua quindi a forza di tirare pian piano lo troviamo e l'install glitter li tengo perché non mi ricordo perché li devo tenere ma comunque c'è un motivo per cui li sto tenendo non mi ricordo comunque va bene siamo a pt 15 andiamo a pt 25 ma questo mi esce fuori subito sto marano speriamo speriamo più o meno a metà molti mi è uscito il 4 stelle sarebbe carino vorrei semplicemente appunto ah per coso per prendere la c6 di keia quando tornerà stringless molto bene vabbè poi c'è il 33% comunque dicevo per prendere la c6 di keia perché del permanente mi manca soltanto keia c6 e quindi ho l'install glitter da parte per keia ecco perché e poi vabbè tutti gli altri sono quelli per le 200 pull tenute da parte per come si dice per l'emergenza 35 per l'emergenza perché non sapesse l'emergenza è quando vorrò fare un c6 ma non avrò materiale allora qui ho il 33% quindi vediamo no l'altra sono tornata alla fine in studio era così tanto mi sono stoppata è fatto bene è fatto bene tanto stiamo cercando mica quindi prima o poi lo troviamo fra un po' arriviamo al 5 stelle quindi nel caso se perdiamo il 50 e 50 va bene tutto se lo perdiamo il 50 e 50 va bene letteralmente tutto perché poi ho il garantito per buy su ragazzi chi se ne frega dovremmo andare a 45 ora o 55 adesso io mi sento tignari ah lasci uno mi piacerebbe tanto lasci uno mi piacerebbe tanto tanto vi giuro quindi veramente ok abbiamo di nuovo il 4 stelle garantito se dovesse uscire lasci uno e tignari sarei felicissima quindi quella è veramente un bell'augurio grazie Arlux grazie ok va bene ccc6 anche quello anche quello tanta roba ccc6 bellissima più bella bella che scing c6 anche farei io sto a posto cioè sinceramente ci sono tante opzioni e mi piacerebbero sempre Diona ma io me lo sentivo per questo ho detto facciamo facciamo appunto un po' così perché oggi visto che non ho pullato niente per i 5 stelle allora ho detto vabbè investono il 4 stelle a meno vi faccio un po' di content quindi grazie chi ha aiutato con i banner a arrivare al content di questi giorni ok va bene non so se Davide ha contato il pisi se non voleva essere licenziato Andrea grazie per il follow dovremmo essere a 65 teoricamente dovremmo essere a 65 siamo a 55 ok mi fiderò va bene non vuole essere licenziato Davide non vuole essere licenziato va bene ok siamo a 65 ora deflut pro inizio multi oh eccolo qua bene l'abbiamo preso appiti 57 preso ok una copia di mica ce l'abbiamo buono buono ce lo siamo portato a casa va bene va bene 50 avete fatto completamente uscire di testa ai limiti dell'esaurimento nervoso e ce l'ho ci sei fosse stato qualcun altro lo so che questo qualcuno di voi la voleva io ce l'ho già ci sei annaggia è peccato io ce l'ho già nel senso bella però io ce l'ho già ci sei avrei preferito far usare l'aila che non ho ci sei lei si perché nel banner di signo come sapete ho pullato tanto quindi l'ho fatta ci sei subito carino carino doppio e niente vabbè ci sei poi 60 oh bene Henry almeno tengo da parte ottimo qualsiasi cosa esca bene perché siamo a early questo è 51 quindi va bene tutto tra l'altro ci sei anche Yunjin ci sei anche Yunjin si si è worth è worth è un'arma a 5 stelle 53 54 55 no mi splitter va bene la mia Keqing ringrazia la mia Keqing ringrazia 56 vediamo se ci viene incontro la divina provvidenza ci fa vincere questo 50 e 50 o male che vada ci da uno di questi due cruciamo le dita utilizzo anche Keqing ok anche Keqing che hai il C0 abbiamo tante opzioni sì quindi abbiamo tante opzioni 55 ok ok la mattina la prossima è quella di rate up oh sì l'abbiamo presa top e adesso lo possiamo dire Diluc vaffanculo scusate 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 eh no perché lei aveva detto c'erano due che non le interessavano per l'appunto non li ha nominati io volevo chiedere che rapporto tu Giorgia avessi con Diluc quindi volevo chiedertelo prima allora con Diluc come ti senti? neanche troppo male nel senso che ne ho uno solo trovato una sola volta e eh nel beata te quello permanente nel permanente ok nel permanente ok quando te la senti? vediamo ciao infatti è meno male meno male perché sennò guarda ok 76 tanto è lei è questione di farla arrivare 77 78 eccola bellissima bellissima io ho dei bellissimi ricordi legati a questa special meravigliosa uno dei personaggi più belli di tutto Genshin Impact penso concorderete con me che esteticamente è una delle più belle ecco brava Melanina su questo siamo d'accordo incredibile ce ne mette d'accordo anche noi bellissima vediamo se c'è come è successo a me vediamo se ce n'è un'altra ti giuro per un attimo per un attimo ho detto speriamo 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 io dissi che bella multi cliccando così dopo una Yunjin e mi comparve la seconda scena infatti io ce l'ho C1 perché me ne riuscirono 2 molto bene molto bene non ricordo il pity vabbè l'avevo trovata alla seconda singola quindi dobbiamo essere a 8 periodo siamo a 6 no 6 è entrato al 69 pt6 allora quindi si va a 16 16 aiuto un attimo un attimo che sta succedendo qui io tranquillo ho detto dai troviamo un'altra amica oh mio dio siamo a pt6 quindi entro pt16 no vabbè aspetta allora adesso abbiamo veramente il 50 e 50 quindi rielencami se non fosse effettivamente un'altra scena cosa vogliamo qui allora prima cosa io non vinco il 50 e 50 da Naida e l'ho persa lì quindi speriamo di vincere quindi la C1 di scena è la cosa che vorresti di più se non fosse allora Diluc non mi dispiace Cici esclusa Tinari non è mai uscito Gino non sarebbe male le altre due sono indifferenti va bene vediamo vediamo sì ha pt8 ha pt8 78 a meno che ho detto 4 stelle ecco qui sì 78 senti tutti Cici C2 quella giusta quella giusta quella giusta e andiamo da pt64 a 74 ok 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 ci siamo questa è la 65 la prossima è quella con i retap ok 67 68 68 68 oh mio dio 69 madonna che paura ma siamo ma siamo ma non si fanno queste cose alla gente oh oh mio dio vi giuro non stavo riconoscendo l'animazione io ho perso il battito ma sto cero non stavo riconoscendo l'animazione ho detto ma che cazzo no ragazzi vabbè 70 sì sì abbiamo presa 70 pt70 abbiamo presa andiamo dai portiamoci a casa questa scena 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 tanto 5 stelle pt75 ok dai dai portiamocela a casa Simone fai silenzio 75 76 ok 77 e niente il potere della chat è stato troppo fuori siamo alla multina del 5 stelle vediamo eccoci qua raggio dorato vediamo ok questa è la 65 la prossima è in retap 66 mammini mammini allora posso dirti una cosa qui c'è qualcuno qualcuno che è in chiamata che non siamo né io né te che questa roba ieri l'ha chiamata nel suo di account però l'ha chiamata ieri pomeriggio mentre eravamo su discord io non me la sono chiamata la mattina allora tu hai detto ecco ti esce domani e io spero la miss splitter invece la calamity killer va bene basta che mi esce la favonius ti esce la favonius la skyward spine la capta si chiama e l'ha chiamata quando te la senti siamo a 76 andiamo a 86 quindi qua a me non siamo proprio sfigatissimi 5 stelle c'è probabilmente anche all'inizio della multi ok ce l'abbiamo dai cici oggi è per uscito Resident Evil 4 remake quindi siamo in tema zombie dai allora per forza cici cici questa è 78 79 cici 80 no niente l'hai vinto l'hai vinto era destino che la vincessi però tu sei già alla 74 quindi puoi già tirare la multi così siamo già vediamo allora luce dorata allora 75 la prossima è quella in retap 76 76 di una va bene vai bene 77 78 79 80 eccola siamo a 55 la prossima multa andiamo a 65 quindi mi raccomando vi aspettiamo nel gruppino telegram ecco 66 no 56 56 57 57 esatto 58 è uscita prima prima si prova del software 58 59 59 oh dio mio no eh no no pensavo fosse un personaggio 5 stelle no eh questo tipo non mi piace va bene questo vuol dire solo una cosa no non lo dire non lo dico no ok è uscita la misprite va bene ok adesso andiamo a 53 ok giacomo grazie per il follow ben arrivato oh early early siamo a 44 con questa sing porca miseria manco il tempo di finire la frase ancora non esiste un catalyst krio siamo a 29 andiamo a 39 quindi chiudiamo a 49 e poi vabbè ci sono due settimane intere per farmare oh vabbè te redi questo banner io non ho parole veramente ti giuro 30 dai dai 31 eccola 32 ce l'abbiamo fatta te le sei presi tutte 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 ti ha preso dammi splitter con poi delle cose assurde ci abbiamo fatto ragazzi un parto sui gemellare ma ce l'abbiamo io non mi capace di quello che è successo oggi perché veramente sono successe cose strane però in tutto ciò è arrivata a casa 60 ok andiamo possiamo andare si 60 la singola facciamo la singola prima è fatto 64 no 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 se vuoi fare il trick della multi è questo cioè tiri adesso la multi esatto se pensa ok andiamo aiuto no ragazzi ce la faccio ci siamo mi splitter dai 65 mamma mia il cuore mi batte forte è sempre pulire morirò 27 morirò non sto contando morirò no la calami ora scommetti dopo pull mi viene la mi splitter a me così belli gasati 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 andiamo siamo a pt 74 vediamo quale darà il 5 stelle eccoci bam 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 75 76 77 78 79 80 sono troppo brava 81 aiaka presa portate a casa a 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 Grazie a tutti.